Ciao e benvenuto a questo video, oggi proseguiamo con la realizzazione del nostro roguelike d'altra volta abbiamo proprio impostato l'ambiente, abbiamo definito la prima variabile stampata video e oggi inizieremo a ragionare su cosa sia la mappa la mappa chiaramente dal punto di vista intuitivo è diciamo il mondo su cui il nostro eroe va a muoversi bene, dobbiamo cercare un modo di rappresentarla allora c'è un modo, abbastanza naturale, che è quello, che è questo io posso immaginare la mappa come un insieme di posizioni di questo tipo sono dei puntini per dire c'è qualcosa quindi con una larghezza e un'altezza ogni punto avrà delle coordinate immaginate, questo in cpp è un array bidimensionale una matrice esattamente le matrici della matematica quindi vuol dire che la posizione che sta qua che sta in posizioni ij io dichiaro la mappa utilizzando adesso una sintesi che vedremo poi utilizzerò la riga e la colonna per andare ad accedere all'elemento va bene, cerchiamo di capire allora innanzitutto le dimensioni della mappa quanto è grande la mappa? per adesso facciamo una mappa piccola utilizziamo qua un nuovo costrutto del cpp più che costrutto in realtà è una definizione, è una macro del preprocessore, è una define with 10 define h10 ci servono queste due define poi eventualmente le faranno diventare funzioni variori costanti ma per adesso ci restano così allora vedete come dice la macro può essere convertita in constexpr questo è il modo questo con le define è il modo classico di definire le costanti in cpp nelle versioni vecchie se scriviamo cpp moderno basta mettere constexpr auto h uguale a 10 quindi facciamo la stessa cosa anche con il w quindi mai più define ma le costanti le definiamo utilizzando constexpr auto ok questo è a posto adesso dovremo andare a definire la nostra mappa la nostra mappa sarà dicevo un array di caratteri quindi dichiariamo un array di caratteri map definisco una variabile qui e height qua ho creato una mappa questa dimensione 10 righe vedete qua c'è scritto 10 10 10 righe e 10 colonne possiamo provare ad andare a stamparla certamente si allora per stampare una mappa dovrò fare ciclare su ogni riga poi incrementare l'indice di riga e poi fare un ciclo su tutte le colonne quindi sono un doppio ciclo for cosa fa il ciclo for? il ciclo for semplicemente consente di partire da una variabile utilizzare una variabile contatore che inizia dal valore che vado ad inserire qua fino a quando è che verrà fatto questo for fino a che nel nostro caso io non è minore di u doppio ciclo sulla riga e di più questo ciclo poi mi consentirà di fare anzi attenzione 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 allora le righe sono rappresentate da l'altezza ok quindi questo diciamo che se andiamo a prenderlo come righe colonna questa è la nostra è il problema che è girato un po' adesso vi faccio vedere il problema dove sta allora si adesso faccio un uguale per la j j minore di j view ok questo doppio cicloformi consente di dimostrare video la mia la mia mappa faccio vedere come cout vado a prendere map adesso dovrò mettere qua dentro i e j ma dove metto i e dove metto j allora j è sulle x ciao ok e i è sulle y quindi avrei fatto meglio il metri x e y ok possiamo mettere y y y e poi mettiamo x infatti la matrice da stampo per righe e questo è y questo è y e questo è x che sono colonna ora quando arrivo in fondo faccio cout handle per dire che voglio fare stampare un a capo vediamo se funziona e vedete che vengono degli stranissimi caratteri e è ragionevole perché questa è una cosa particolare dobbiamo sempre ricordarci che quando in cbp ne andiamo a definire una variabile questa non è inizializzata per forza 0 c'è l'idea che devo per prima cosa andare a inizializzare la variabile e poi la posso stampare ma inizializzare la matrice vuol dire semplicemente rifare questo ciclo e all'interno fare una cosa diversa cioè facciamo inizializzo init matrice init mappa ok qua faccio stampa mappa ok qua non avrò l'end per andare a capo ma dirò che map yx è uguale a un carattere che poi voglio rappresentare che sarà ad esempio questo il punto ok ok se adesso eseguo vedi che sono tutti i punti e questo è quello che noi cercavamo e va benissimo adesso vorrei rappresentare il nostro eroe ma il nostro eroe in realtà starà in una certa posizione allora scriviamo due variabili che sconteranno la posizione del nostro eroe inter hero x uguale a non so 5 ok e hero y uguale a 7 questo modo vede che ho esattamente dichiarato due variabili intere e le ho inizializzate la prima a 5 e la seconda a 7 stampata la mappa ok cioè inizializzata la mappa devo fare a posizionare l'eroe posiziono eroe sulla mappa questo è un tipo di commento che ci serve per capire cosa succede in map allora la riga è hero 7 la colonna hero x 5 uguale a hero glyph vediamo ok sta la x è 5 e la y è 7 perfetto considerando che 0 0 per noi in alto 6 in alto sinistra quindi quello che cerchiamo quindi questo ci dà la posizione del nostro eroe all'interno del mondo il nostro mondo 10 per 10 ok con questo abbiamo disegnato la mappa e abbiamo vediamo se riesco a incrandire no non riesco a incrandire e abbiamo disegnato la mappa e abbiamo poi stampato il nostro eroe notate che inizializzare la mappa tutta pulita si potrà dovrà fare praticamente ogni volta dopo di che andremo a costruire dei livelli saranno i muri ci saranno gli oggetti preziosi ci saranno i mostri ci sarà il livello dell'eroe e questi andranno disegnati proprio come se fossero dei livelli successivi alla fine dovremo andare a stampare la mappa quindi immagino avere una draw world una funzione che fa che sistema tutte queste cose vediamo un attimino come si può fare a creare una funzione che inizializzi la nostra mappa allora per far questo io faccio una funzione void e qua devo mettere il tipo di dati che la funzione ritorna init map questa funzione in realtà a questa funzione dovrei passare tutte le volte la mappa e anche a tutte le altre funzioni che lavorano sulla mappa abbiamo una possibilità diversa invece di dover passare il valore noi semplicemente prendiamo questa definizione e la spostiamo all'esterno questa funzione la map dichiarata qua è locale all'interno del main si dice cioè è stata dichiarata nel main e vive nel main se vogliamo richiamarla da un'altra funzione dobbiamo spostarla fuori spostiamola fuori e la rendiamo globale cioè dobbiamo scusate dobbiamo passarla come parametro oppure renderla globale rendere globale i valori è sempre pericoloso in questo caso lo facciamo perché il nostro esempio è semplice e poi vedremo di risolvere questo problema in altro modo questa è globale questo vuol dire che qua dentro io posso accedere la map perché è dichiarata nel punto di vista globale qua tolgo questo codice lo metto dentro init map questo adesso il codice funziona tutto solo che non fa più l'in della mappa devo richiamarla come faccio a richiamare una mozione chiamo la funzione init map ok verifichiamo che funzioni nello stesso modo esattamente funziona nello stesso modo siamo posti se volesse andare a rappresentare una funzione che stampa l'eroe la farei void print hero hero dovrò dirgli x e la sua y allora e poi dovrò dirgli anche il glyph quindi il carattere glyph questa riga diventa questa è una funzione semplice in realtà sarà x y e glyph in realtà se ci pensiamo un attimo questa cosa di rappresentare qualcosa in una posizione con un glyph non è soltanto dell'eroe ma è print di un'entità qualsiasi del mio gioco a questo punto io posso dire quindi print entity stampo l'eroe che sarà hero x hero y e poi hero glyph e via 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 in questo modo abbiamo chiamato questa funzione chi ha dei parametri la cosa importante è che noi dovremmo sempre andare a dichiararla implementarla prima è vero anche che io posso spostare vediamo che funziona seduto funziona uguale siamo posti allora dice abbiamo questa qua la sposto in un altro posto ad esempio sotto al main qui sotto in fondo se adesso noi andiamo a eseguire mi dà un errore di compilazione perché mi dà errore di compilazione vedete che qui non so se riuscite a vedere lo scritto piccolo è scritto che print entity non è definita è vero cosa è successo ho semplicemente preso una funzione e l'ho spostata sotto pensate se ad essere spostarla in un altro file cosa che si può fare questo perché le funzioni in gpv vanno prima dichiarate e poi implementate io posso implementarla anche in un altro file ma devo dichiararla dichiarare come è fatta prima di utilizzarla per fare questo copiamo il tipo di ritorno nome della funzione e i parametri quello lo dobbiamo dichiarare sopra con questa riga punto e virgola non c'è implementazione io dico guarda che alla fine io da qualche parte definirò una funzione che è chiamata print entity quindi se c'è nel codice aspettati che poi la troverai fatta in questo modo non ritorna nulla ha due parametri interi e un carattere quante cose vero? sono un sacco però la cosa fondamentale è questa allora noi abbiamo i cicli for che ci consentono di accedere agli elementi della nostra mappa con le quadre io accedo un singolo elemento questa è la riga questa è la colonna e poi con le funzioni vado a estrapolare delle parti di codice che mi possono interessare quindi ad esempio che o richiamo più volte tipo la print entity questa è una funzione che chiamerò un sacco di volte se dovessi definire un goblin allora posso andare a stampare anche il mio goblin ok? allo stesso modo o i muri ad esempio gli ostacoli in generale e poi avrò sempre questa funzione di stampa della mappa quindi ad esempio la init map o il ciclo for che potrei spostare anche lui nella funzione esterna di stampa della mappa li ho messi in una funzione per leggibilità quando invece vado a richiamare la print entity in questo caso io sto semplicemente andando a richiamare del codice che so anche se è poco codice in realtà perché è soltanto quel piccolo pezzettino di codice qua che potrà essere eseguito più e più volte il problema è che la funzione di stampa potrà poi cambiare perché potremo avere non più soltanto la stampa del glifo ma la stampa del glifo con i colori quindi un sacco di cose questo è un po' quello che ci serve che ci serve capire quindi funzioni fondamentali i cicli for che ci consentono di scorrere qua la prima volta sarà y uguale a 0 poi inizia con y uguale a 0 c'è x uguale a 0 quindi è 0,0 poi x uguale a 0 si incrementa quindi x uguale a 1 una volta successiva e controlla se x è minore di w se è minore esegue il codice all'interno poi x uguale a 2 poi così via quando x uguale a w qua ha finito perché questa condizione è falsa allora esce arriva qua e cosa fa? incrementa la y e testa che la y sia minore di h e così via quindi è un ciclo che si continua fino a che non si arriva qua questa è la condizione che mi fa fermare ok abbiamo messo un sacco di carne al fuoco oggi c'è veramente stato un sacco di cose che abbiamo aggiunto però è fondamentale avere un po' un po' di cose su cui riflettere adesso poi faremo anche degli esercizi di intramezzo su questi argomenti prendendoli una alla volta così potrei capirli meglio e poi quindi riprenderemo fra qualche video con lo sviluppo del gioco in sé ma adesso lavoreremo un pochino sulle matrici sui vettori con calma questo è un buon video per darti un buon idea di dove vogliamo andare a finire ok con questo ti ringrazio per l'attenzione e per la pazienza se hai delle domande falle pure iscriviti al canale condividi questo video sui tui social diffondi la voce che esiste a questo canale e ti ringrazio per l'attenzione e alla prossima ciao ciao